Intanto ora mi sento solo di dire grazie alla Polizia di Stato, grazie al Questore per l'attenzione ai temi del controllo del territorio e della legalità. L'ha ricordato anche nel suo intervento il Questore ha detto che abbiamo oggi un momento particolarmente difficile, soprattutto nel nostro territorio, chiaramente che è ancora più colpito da fenomeni di tensione sociale, quindi si aggiungono quelli della criminalità organizzata o diffusa o insieme anche a temi delle tensioni sociali. Quindi veramente grazie al Corpo della Polizia di Stato e a tutti quelli che lavorano nella sicurezza.